Sono solo quattro i comuni della provincia di Verona al momento senza cittadini positivi al coronavirus. Sono Salizzole, Bevilacqua, Roveredo di Gua e San Mauro di Saline. Comuni di piccole o piccolissime dimensioni aiutati dalla legge dei grandi numeri ma anche dalle caratteristiche del tessuto sociale, senza grosse attività economiche, senza case di riposo e prevalentemente agricoli. Ci sentiamo come gli ultimi dei moicani. Siamo circondati ormai perché tutti i comuni hanno casi positivi, però per conto nostro è solo una questione di fortuna questo, anche perché non siamo in tanti, siamo 1600 anime. Abbiamo fatto quello che hanno fatto gli altri comuni, però ecco, a parte la fortuna, noi dobbiamo conservarla la fortuna. Ecco perché io chiedo in continuazione ai cittadini di stare attenti, di non muoversi, specialmente al supermercato, di andarci almeno una o due volte alla settimana, di avere tutti quelli accorgimenti possibili. I sindaci che quotidianamente si sentono in videoconferenza non attribuiscono un grande valore ad essere al momento esenti da casi. Approfitto di questa possibilità che mi date per essere vicino a tutti i colleghi della provincia di Verona che invece hanno avuto casi positivi ma soprattutto magari perdite, quindi la mia vicinanza e di tutti i miei cittadini a loro. Non c'è una motivazione particolare, penso che sia solo una questione di di fortuna e nient'altro, quindi non ho spiegazioni particolari.